L'impatto è che sicuramente le persone con disabilità visiva dovute alle distrofie retiniche si ritrovano innanzitutto ad essere non viste, nel senso che non si vedono subito questa loro disabilità e anche loro non hanno molta voglia, diciamo così, di esprimersi in questo, dichiarare la loro disabilità visiva perché in effetti non lo sono fin tanto che non si trovano in difficoltà. Ora la disabilità visiva, le distrofie retiniche portano ad avere un restringimento del campo visivo per quanto riguarda la ritenuta pigmentosa classica oppure una macchia centrale per le maculopatie. Questo gli permette di avere varie fasi di ipovisione per cui da una ipovisione lieve poi diventa una ipovisione grave e questo poi a quel punto c'è questo impatto della persona, cioè la società che ha questo impatto perché la persona sulla società ha questo impatto perché appunto non ritrova, non si ritrova in quella che è una qualità di vita per lui soddisfacente. Appunto la vita dei pazienti con questo tipo di malattie è una vita molto complessa? È una vita innanzitutto molto faticosa perché loro sono concentratissimi per evitare ostacoli, per evitare farsi conoscere dalle persone nel mondo lavorativo. Molto spesso nel campo lavorativo le persone, essendo progressive la patologia, magari iniziano un lavoro che loro riescono a fare e poi magari durante gli anni non riescono più a fare. Questo comporta un cambiamento anche di attività che non sempre riescono poi a trovare un lavoro adatto alle loro attuali condizioni visive e questo è un altro grosso impatto. Psicologicamente è una patologia di alto impatto perché sostanzialmente non riescono nemmeno a fare dei progetti di vita non sapendo qual è la prognosi della patologia. Alcuni sono già gravemente ipovedenti a vent'anni, altri riescono ad avere un residuo visivo che dura negli anni. Questo non permette di fare progetti di vita e questo è un altro grosso impatto che una persona con distrofia rettivi che ha nei confronti sia della società, della scuola, del mondo ludico. Anche andare al cinema può diventare un problema o andare a ballare, andare in discoteca. Presidente, un'ultimissima cosa. Voi come associazione fate tante cose, volevo chiederle brevemente qual è il vostro obiettivo, soprattutto in questo preciso momento storico e poi l'importanza delle diagnosi precoci? La nostra associazione, dato che ci occupiamo di patologie che non hanno una terapia ancora, è quello di dare informazioni costanti ai nostri soci, ma a tutti i pazienti perché abbiamo un sito, una newsletter, eccetera, sulle novità scientifiche. Questo è il nostro compito principale. Sosteniamo la ricerca scientifica perché siamo nati per quello, quindi per ottenere poi le terapie. E l'altra cosa è quella di mettere in comunità le persone per poter confrontarsi, parlarsi in modo di condividere magari le loro difficoltà, ma anche le soluzioni dei loro problemi. La, come diceva prima, la richiesta di una diagnosi genetica precisa è proprio quella di poter individuare il fatto che avere una diagnosi precisa sua, avere la propria mutazione, serve eventualmente per eventuali trial che potrebbero essere in corso, andare a individuare le persone che possono partecipare a questo trial su quella particolare mutazione. Non nascondiamo che è difficile perché sono più di 260 geni con tutte le mutazioni che riguardano appunto questi geni e quindi il test genetico è fondamentale per una diagnosi corretta e precisa della patologia.